Allora, abbiamo dei problemi di tempo perché tutti i relatori all'uno e mezza, alle due, devono scappare con gli aerei e quindi dobbiamo iniziare, poi magari l'aula si riempirà. Iniziamo la sessione di oggi, la prima sessione è sulle operazioni societarie straordinarie delle procedure di composizione negoziale della crisi. I relatori l'hanno già presentato ieri, abbiamo la fortuna di avere il presidente Roro, il presidente Maggiungo della Corte di Cassazione, per noi civilisti è un magistrato importante in Italia. Con lui c'è la collega Raffaele Abrogi che ha scritto un libro su questa materia e quindi conosce benissimo tutte le problematiche. e abbiamo poi invitato a partecipare a sessione dei lavori il dottor Radagli, commercialista a Torino, che si è occupato di operazioni di ristrutturazione del debito che prevedevano riorganizzazioni societarie, attestando dei piani di società molto importanti. Quindi iniziamo i lavori. Grazie al presidente, grazie a Torino. Buongiorno a tutti, grazie al presidente Silvestrini per questa presentazione e grazie a Loroci naturalmente per avermi invitato a partecipare ai lavori di questo seminario che come tutti i seminari realizzati da Loroci hanno una connotazione fortemente operativa, mi pare di poter dire, e quindi a di là dei ringraziamenti che comunque sono assolutamente sentiti e non di maniera da parte mia direi di entrare sul punto in medias a res sul tema delle operazioni societarie straordinarie e in produttività aziendale che è uno di quei temi nei quali, come è evidente, si vuole la necessità di comprendere come funziona, se funziona e come funziona il dialogo tra diritto societario e diritto commerciale. Per primo, le operazioni societarie, straordinarie, sono operazioni che trovano una rottura e ovvia base e normativa nel quale codice civile, il quale codice civile, peraltro, le disciplina, di configurare la disciplina, fondamentalmente avendo ridurato una situazione di fisiologia, un quattro raggiungo relativa alla fisiologia, comunque il presupposto implicito ma chiarano di società in base o in società in crisi o a lettura di sorventi. Mentre quando queste operazioni vengono compiute e si cadono all'interno di una situazione di crisi o di insolvenza e quindi devono coniugarsi con delle due, della procedura che non posso avere in particolare per quello che oggi vogliamo mettere a forma una procedura di comportamento pregativo e possono determinarsi semplicemente effettivamente dei momenti di tensione tra questi due insiemi normativi che sono di puntare all'altro. Questi momenti di tensione io credo che li potremmo forse esaminare distinguendo due aree di riferimento, così da un momento. Un momento fa con la dottoressa Doria e con il dottor Ranari, la prima riguardante le operazioni di aumento di capitale, un aumento di capitale con emissioni di valorazioni, con emissioni di diritto d'opzione, quelle operazioni attraverso le quali si cerca in definitiva di fare entrare nuova efficienza attraverso l'impresso di buono capitale di rischio, di impresa in difficoltà. La secondaria, qui c'è un problema di operazioni di infusione e scissione che evidentemente poi presentano delle differenze una rispetto all'altra ma che nel breve tempo che abbiamo a disposizione è per semplicitare il proprio regno di interne, diciamo così, a fattore comune, infusione e scissione, che ugualmente quando realizzate all'interno del piano guardatario comono una serie di problemi, in parte all'altra della realtà, quelli che si comono con riferimento all'aumento di capitale e al sacrificio di difusione, di opzione. In qualche misura, in termini generalissimi, dirò solo poche parole introduttive poi da poi perché lasciavo la parola al dottoressa Doria e al dottor Ranari, ma dicevo che in qualche misura, in termini generalissimi, il problema di fondo che evidentemente emerge in questo tipo di situazioni è quello di dove si alloca il potere decisionale rispetto a questa tipologia di operazione per un verso e di qual è l'interesse che queste operazioni devono perseguire e in funzione del quale quindi il legislatore interviene dando una scelta della disciplina, perché è qui che si formano i maggiori spiazzamenti tra la disciplina societaria e la disciplina concursuale, che mi pare già molto evidente, con riferimento al primo punto che ho accettato, cioè chi decide che cosa, perché è evidente che questo tipo di operazioni, il momento di capitale, come nel resto anche di libera di fusione o di scissione, sono operazioni che nella logica del codice civile si collocano, si realizzano attraverso delle operazioni assemblearie o delle operazioni dei soci. un'altra caratteristica di realizzamento della disciplina societaria di quella fondamentale sta in ciò che la disciplina societaria che nel disegnato dopo la riforma del 2003 ha inteso maggiormente differenziare la tipologia della società di relazione rispetto alla tipologia della società di responsabilità limitata, anzi la legge del, perché alla base di quella riforma è proprio quello di differenziare il più possibile queste due tipologie societarie. E quindi insomma, per esempio, anche a proposito del diritto di opzione e dell'opzione di capitale ci sono delle precise differenze normative tra la disciplina della società di relazione e quella della società di responsabilità limitata. La disciplina concorsuale, quando ha riferimento a questa tipologia di situazioni, tendenzialmente non distingue tra società di relazione e società di responsabilità limitata e quindi dentro delle regole che sono tutte affatto al volume. e anche qua, nell'incastro della necessaria collegazione tra la differenziazione che è ormai proprio del diritto societario, quando ha la tipologia societaria di precedenza e la indifferenziazione che si dileva nel diritto concorsuale, vi sono dei momenti di non sempre facile collegamento. ma torno al punto al quale avevo interrotto un momento fa il potere di decidere che dell'Assemblea e quindi dei soci decidere queste operazioni, che è dell'Assemblea e dei soci perché sono operazioni destinate ad incidere in modo diretto sui diritti patrimoniali, oltre che sui diritti corporativi propri dei soci di una società di capitale sia di essa relazione che di una responsabilità limitata. Non si può immaginare un aumento di capitale di una società di relazioni se non attraverso la delibera dell'Assemblea, o anche la delibera dell'Assemblea, se è stata delegata ai soci ma il potere delegato di derivare in capo ai soci, evidentemente. Allo stesso modo non possiamo immaginare un'operazione di diffusione, una decisione, una trasformazione se volete senza una delibera dell'Assemblea, della quale i soci assumano la relativa decisione, ricompresa quella di accettare o meno, per esempio, certi rapporti di cambio. Che cosa ne è quando queste operazioni sono funzionali a un piano di comportamento? E qui la risposta non è ovvia, e non è ovvia se si parte dal presupposto che dopo la riforma del 2005-2006 l'iniziativa per la proposta comportataria non è in capo ai soci ma è in capo all'amministratore, all'amministratore della società. Se dunque sono gli amministratori a proporre la domanda di comportamento, a elaborare il piano comportatario e a inserire nel piano comportatario una ipotesi di operazione sul capitale, in un momento di evitare, in funzione, in escessione e che sia, occorre poi inevitabilmente perché questa proposta che è stata presentata ai creditori, che può essere stata omologata, sia portata all'esecuzione o che era poi comunque necessariamente un'attività semplice per darvi seguito o si può addirittura ipotizzare che essendo stata realizzata, essendo stata premista sulla base che il potere legale degli amministratori del piano comportatario questa operazione possa addirittura sorvolare il potere dei soci. Io avrei dei dubbi nel rispondere affermaticamente a questa domanda, ma è già una domanda la quale mi piacerebbe che i miei vicini di banco provassero a rispondere. Ma naturalmente se si dà a questa domanda una risposta positiva, se cioè si ritiene che tecnicamente come oggi è configurata la normativa societaria barra concorsuale ancorché prevista in una proposta in un piano di concordato una delibera, per esempio parliamo di aumento di capitale con sacrificio del diritto di opzione per consentire l'emissione di capitale di rischio nuovo, la delibera di tal genere debba comunque passare attraverso il valido di una decisione dei soci attraverso uno strumento assembleare che né qualora l'assemblea dei soci non deliberi favorevolmente rispetto a questa delibera. È possibile ipotizzare l'intervento di strumenti coercitivi esterni? La questione poi si complica ulteriormente se dalla ipotesi della proposta concorrente, evidentemente può contemplare una ipotesi di questo tipo. E se contemple all'ipotesi di questo tipo innesca, in modo evidente, un potenziale conflitto con i soci della società rispetto alla quale si propone un aumento di capitale col sacrificio di un diritto di opzione dei soci stessi. Qui si può ritenere che quell'interesse della società anche secondo l'articolo 1441 del codice civile è la condizione per il sacrificio di un diritto di opzione quando l'interesse della società lo esige, dice forse un po' di enfasi eccessiva l'articolo 1441 del codice civile. Ecco che l'interesse della società sia impersonato, valutato non dai soci, ma dal soggetto terzo che si fa portatore di questa proposta e che addirittura la valutazione del soggetto terzo, per questo strumento che consente, come oggi sappiamo, in caso di inerzia o di resistenza del soggetto debitore e quindi della società, quindi dei suoi soci, consente di attribuire al commissario straordinario quei moteri dei soci in asseverso della società nel 1963 che arrivi appunto fino a deliberare, quell'aumento di capitale con sacrificio del diritto di opzione, sovrapposto che l'interesse della società lo esigna perché questo interesse non è valutato come tale dai soci della società stessa. Il che, e qui non voglio buttarla sul teorico perché appunto come dicevo all'inizio, non è questa serie di recuperazioni teoriche ma di esercitazioni pratiche, ma qui si apre di nuovo il tradizionale e mai risolto problema di che cosa sia poi davvero l'interesse della società, in che misura l'interesse della società si possa configurare come qualcosa di diverso e distinto dalla somma o dalla sintesi degli interessi dei soci. Se questo ci avvia adesso una forma di neoistituzionalismo societario rispetto alla concezione fortemente contratualistica che da qualche anno si riteneva ormai dominante nel campo appunto della teoria del diritto societario perché innegabilmente qui parliamo che se si ritiene possibile arrivare a una operazione di questo genere con sacrificio di interesse di opzione perché l'interesse della società lo esige contro l'interesse dei soci, quindi davvero l'interesse della società appare contraposto all'interesse dei soci, esso di esso prevalente tanto che un altro soggetto, non più i soci, ma il commissario dominante dal tribunale, a farsene portatore, a farsene interprete e a farsene interprete in termini che gli consentano di far prevalente la sua votazione. Questo ripare sia tra i punti di maggiore interesse di questo fenomeno, come questo fenomeno si riflette proprio sul modo di intendere la mozione di interesse sociale e l'essere, la concezione delle società di capitali più o meno accostabile o allontanabile da una concezione puramente contratualistica qual è quella la quale da ultimo ci avevamo abituati. Infatti qualcuno ha parlato di l'ideocostituzionalismo per l'emergere di un interesse del mercato, un interesse superiore rispetto al quale gli interessi dei soci dovrebbero essere recessivi. Ovviamente questo apre interrogativi con gli ambiti costituzionali sui limiti entro i quali è davvero possibile sacrificare questo interesse dei soci mercati all'interesse del mercato, anche forse dovremmo dire più realisticamente e più concretamente dei creditori perché ovviamente queste procedure hanno poi come stessa polare e interotto dovrebbero avere anche la stessa continuità aziendale, dovrebbero avere la stessa polare per sempre l'interesse dei creditori, ma fino a che punto ciò possa condurre attraverso appunto un meccanismo come quello dell'ambito di capitale e del servizio del diritto di opzione alla vera e propria sottrazione della società ai soci che ne sono i titolari, per cui capitale i soci sono titolari. Se questo è coerente e consentito dai principi della nostra Costituzione, trattandosi sicuramente alcuni di una forma di esplorazione senza indennizzo e di una esplorazione per pubblica e quindi un punto integrativo a scatto all'aggettivo pubblica l'utilità delle cose. E da ultimo parliamo all'importanza, soprattutto all'importanza pratica, quali strumenti strumenti di reazione, i soci, ovviamente gli stessi creditori di senzietti o un eventuale terzo che possano ritenere i suoi interessi lesi da questa tipologia di operazione, quale strumenti di reazione i soci possano ritenere in campo, perché probabilmente non si può intaginare anche queste operazioni se eventualmente per qualche motivo iniziate in termini di regittività che non siano impugniabili in cui si possa portare davanti al giudicicolo perché ci sono interessi che ne vengono intaggati. E l'alternativa evidente è quella se poteva farsi qui al sistema delle impugnazioni, al sistema dei rimedi giuridizionali disegnato nel rapporto a questa tipologia di operazione e dal codice civile o se non debba, perché queste operazioni come se non si conto tra l'alternativa di una procedura che ha la sua regola, la sua provenienza e che anche gli organi giuridizionali ad essa specificamente preposti non devono potersi immaginare che anche i rimedi giuridizionali a secondo di quali che siano, insomma, invocabili in questo genere di situazioni, debbano calarsi all'interno della procedura e quindi trovare il loro sfogo in forme, come abbiamo a dire, endo-processuali. E questi mi sembrano interrogativi in questo momento più importanti di fondo e di ordine generale ai quali io proverei a cominciare a chiedere alla dottoressa Forgi che cosa ne pensa e poi magari potremmo scendere, diciamo, a questioni più in dettaglio suggerite dal precedente questionario che lui ci ha preparato su questi temi e allora cederei senz'altro la parola alla collega Brocchi che ha scritto da inizia del dottor Ranano una monografia su questi argomenti e quindi meglio di chiunque altro è in grado di darci delle risposte. Beh, io dico un altro no, è stata scritta con il professor Bastia questa monografia che ha l'onore dell'apprezzazione scritta dal presidente Robb, che ringrazio anche questa occasione. E prima di iniziare vorrei anche ringraziare il presidente Alessandro Silvestrini per avermi invitato qua per la sua sicurita ospitalità e proprio la grande generosità di questa città che per il secondo anno accoglie un convegno dell'OCI. Come è noto, è stato proprio l'argomento della riforma della legge alimentare nel 2005, quindi con la modifica dell'articolo 160 che ricevendo un modello di concordato identizzato che si era affermato nella legge speciale in materia di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, quindi mi ricarisco in particolare l'articolo 4bis della legge Marzano, è possibile procedere alla soddisfazione dei creditori, quindi prevedere che i creditori siano soddisfatti in qualsiasi forma e già questo sarebbe stato sufficiente a far ipotizzare l'ingresso delle operazioni societarie straordinarie nell'ambito del diritto concorsuale, ma in realtà il necessario del 2005 fa un espresso di credimento, comprese operazioni societarie straordinarie, quindi anche alla fusione e alla scessione con la possibilità di poter attribuire in quale forma di soddisfazione ai creditori anche azioni o altri strumenti partecipativi o finanziari. Da qui appunto si è avuto l'ingresso di questa forma di dazio insolutum che può avere una pluralità di impieghi a livello pratico. Il primo può essere appunto, come dice la norma, quello di fare una relazione di un aumento di capitale in modo da poter liberare l'emissione di azioni che possano essere assegnate ai creditori della loro soddisfazione, un'altra possibilità, e qui emerge anche l'utilità delle operazioni societarie straordinarie, è che l'aumento di capitale possa essere finalizzato a consentire l'ingresso della società delle risorse necessarie per il pagamento dei creditori. Un caso concreto che evidenzia bene questa possibilità è il caso Socoterm, dove è stato deciso dal Tribunale di Vicenza nel periodo 2009-2010, Invece lì noi abbiamo avuto due proposte che si sono susseguite. Nella prima era prevista l'assegnazione di una serie di obbligazioni però convertibili in un marco temporale eccessivamente lungo che quindi non consentiva ai creditori assegnatari di poterli monetizzare e quindi collocare sul mercato e era un'operazione che era finalizzata essenzialmente a consentire il mantenimento del controllo della società da parte dei vecchi soci con una sostanziale fase di traslazione del rischio di impresa in capo ai creditori. Ovviamente questa proposta, così come è formulata nel controllo dei consensi di creditori, si passò quindi ad un'altra proposta che prevereva un aumento di capitale di 50 milioni di euro sottoscritto da soggetti terzi che acquisirono conseguentemente il controllo del 95% della società e quindi su questo punto già noi vediamo questa forma appunto di contrasto tra i soci detentori della maggioranza del capitale o comunque della qualità di capitale necessaria per poter avere il controllo della società e i creditori che ovviamente nell'ambito di una situazione di crisi diventano gli effettivi i fornitori del capitale del rischio in quanto più nell'ipotesi in cui questo sia eroso e quindi questo contrasto oppone dei problemi di superamento di eventuale risenso del socio, beh non restando che eventuale modalità di superamento del contrasto di questo conflitto tra soci e creditori quindi non può che avvenire in una prospettiva di bilanciamento degli interessi che deve essere collocata su quello del piano della nostra comunità, quindi della Costituzione come già richiamato anche dal Presidente Rodolfo quindi noi abbiamo un articolo 42 della Costituzione e qualunque modifica, qualunque norma di legge che comunque anche nell'ambito di una situazione delicata come quella della crisi d'impresa deve tener conto di questo bilanciamento di interessi con specifico riferimento alle operazioni di aumento di capitale a differenza di quanto avviene nell'ipotesi della fusione e dell'accessione noi abbiamo avuto un intervento recente da parte del legislatore con la riforma del 2015 il decreto legge 83 del 2015 convertito nella legge numero 132 del 2015 l'articolo 163, nel prevedere appunto le proposte concorrenziali e quindi questa nuova disciplina che ha dato l'ingresso alla concorrenzialità anche nell'ambito della procedura di concordato preventivo prevede che la proposta concorrenziale del terzo possa avere ad oggetto anche un aumento di capitale e non solo, il legislatore va anche a prevedere l'articolo 182 ma anche una disciplina per l'ipotesi in cui venga votata dalla maggioranza dei territori la proposta concorrenziale del terzo che abbia ad oggetto un aumento di capitale e i soci non diano volontariamente attuazioni prima ancora di loro gli amministratori non convochino l'assemblea per poter deliberare l'aumento di capitale destinato ad essere sottoscritto dai terzi attraverso una serie di poteri che vanno dalla possibilità di rivolgersi quindi al tribunale parlamentare che può A. invocare l'organo amministrativo B. nominare un amministratore provvisorio che possa convocare l'assemblea e deliberare positivamente il aumento di capitale questa norma presenta a livello applicativo dei profili di criticità non solo perché come ho osservato anche in un recente articolo il professor Vattermoni mancherebbe quasi un pezzettino, cioè si parla dell'amento di capitale ma poi dopo un momento ci deve essere la sottoscrizione da parte dei terzi ma pone un problema in relazione alla circostanza che la proposta concorrenziale del terzo nel senso dell'articolo 163, può prevedere anche la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione allora il profilo di criticità appunto segnalato dal professor Vattermoni riguarda l'ipotesi in cui si abbia un'erosione totale del capitale sociale e quindi un annullamento possibile della partecipazione allora lui propone un'interpretazione a mio avviso molto interessante in cui dice siccome c'è un principio di indisponibilità della partecipazione da parte dell'assemblea ma in presenza quindi di una situazione in cui il capitale sicuramente eroso e l'esclusione del diritto di opzione andrebbe a precludere quindi al socio di continuare per parte di questa società quindi di fatto non lo escluderebbe e il diritto di opzione possa essere limitato ma non escluso. Un secondo profilo di criticità che è stato progetto anche di inquisito fatto nel questionario dell'OCI riguarda la questione relativa alla tipologia di azioni che possano essere eventualmente liberate attraverso l'aumento di capitale oggetto di proposta concorrenziale. In particolare è veramente interessante perché è stato chiesto ai giudici delegati di rispondere al secondo quesito e cioè se la proposta concorrente del terzo con oggetto di aumento di capitale potesse prevedere che la sottoscrizione avvenisse attraverso l'azione al terzo di qualsiasi tipologia di azioni ordinarie o speciali o solo azioni ordinarie. La risposta data dal 78,8% e quindi direi da più di tre quarti degli intervistati è che la proposta concorrenziale del terzo possa avere ad oggetto un aumento di capitale destinato a liberare qualunque tipologia di azioni. Ora, l'emissione di azioni speciali nell'ambito della disciplina societaria è riconducibile ad una modifica statutaria. Non solo, c'è un'ampia autonomia concessa ai soci della possibilità di delineare la tipologia dei titoli partecipativi ma anche di quelli non partecipativi agli strumenti di debito al punto che in dottrina Libonati ha parlato di organizzazione in paregare del finanziamento dell'impresa e quindi abbiamo un'ampissima autonomia statutaria concessa ai soci per conformare gli strumenti partecipativi. è da segnalare che ovviamente è intervenuto in più riprese, interviene anche nella normativa speciale contenuta ad esempio anche nel testo unico in materia finanziaria del legislatore, ad esempio mediante l'inserimento delle azioni con voto plurico, la modifica dell'articolo 2351 e quindi la possibilità di poter attribuire ad un'azione anche più voti, fino a un massimo di 3. Allora, in questo caso noi abbiamo, nel fatto di questa norma, la possibilità di acquisire il controllo della società con il possesso di una minore percentuale di capitale sociale. Allora, la proposta componenziale del terzo può avere ad oggetto l'emissione di azioni speciali, comprese anche ad esempio le azioni a voto plurico o no. La risposta che io sarei portata a dare la mia opinione in dissonanza, peraltro da quello che ritengono la maggior parte dei miei colleghi, è formalmente no, perché la norma attualmente dell'articolo 163, così come nella fase esecutiva dell'articolo 182, ultimo comma della legge fallimentare, parla dell'avvento di capitale. La delibera dell'avvento di capitale e quella con la quale viene decisa l'emissione di una tipologia di azioni speciali e la parte della società sono, a mio parere, formalmente distinte, quindi in mancanza di un'espressa indicazione della norma non è possibile quindi far sì che attualmente del proecondito la proposta concorrenziale del terzo possa avere ad oggetto delle azioni speciali, ma possa riguardare solamente le missioni di azioni ordinarie. Quindi, attualmente, per andare nella conclusione di questo intervento, una disciplina volta a superare questo conflitto socio-prenditori è previsto solo per la proposta concorrenziale del terzo, non è previsto invece dell'ipotesi in cui siano gli amministratori, nel momento in cui vanno a delineare i contenuti del piano concordatario, inseriscano quale forma di rifinanziamento dell'impresa, un aumento di capitale per poter liberare le risorse destinate a pagare i creditori, l'avvenuto nel caso sotto, 50 milioni di euro, aumento di capitale, pagamento del 22% dei creditori chirografari. Quindi c'è questa, diciamo, aporia, a mio avviso, a livello sistematico per cui l'attuazione comportiva appunto della proposta riguarda solamente quella formulata dal terzo e non quella da parte degli amministratori. ci sono dei problemi già evidenziati dal Presidente Rorto, cioè anche in dottrina dal professor Fratermoni circa questa soluzione del diritto di opzione. Mi prego poi fare un'ultima considerazione relativa alla circostanza che non necessariamente può esserci un conflitto per soci e creditori e quindi conseguente alla perdita del controllo sulla società da parte dei soci di maggioranza, ma le difficoltà di deliberazione di aumenti di capitale possono essere riconducibili anche a una situazione di inerzia di soci evidente tanto più nell'ipotesi di azionare atto diffuso. La delibera di aumento di capitale comporta una modifica dell'atto costitutivo che richiede la deliberazione dell'assemblea straordinaria e allora, come sa bene il Dottor Ranalli, spesso è molto difficile portare i soci a deliberare. Nel caso SEAT, di cui io faccio un minimo accendio per finire la parte sui profili giuridici, noi abbiamo avuto una, grazie all'articolo 182.7, quindi alla sospensione dell'articolo 2446 e 2447, è stata fatta da prima una riduzione di capitale sociale da 450 milioni di euro a 120 mila euro, che all'epoca era la soglia minima, successivamente poi è stata ridotta a 50 mila euro, e senza alcun annullamento delle azioni, successivamente è stato fatto un aumento di 19 milioni e 800 mila di capitale sociale da assegnare ai territori, anche in questo caso non sono state annullate le azioni, ma si è avuta una diminuzione del capitale sociale in mano ai vecchi soci allo 0,25%. Poi il dottor Lanari appunto ci dirà come hanno convinto questi soci ad andare a votare, perché positivamente questi sono andati a votare e questa è stata un'operazione di ristrutturazione che ha avuto successo. Un ultimo profilo e poi pervo su questo riguarda l'ipotesi che in realtà, appunto, anche quando onesti c'è questa conflittualità, anche nell'ipotesi in cui sempre nell'ambito di una operazione, risoluzione della crisi, l'aumento di capitale serva al rifinanziamento dell'impresa garantendo il finanziatore che nella normalità dei casi sarà una banca, attraverso la sottoscrizione dell'aumento di capitale. Quello che mi colpiva, appunto, riguardando questi giorni il caso di sanamento, noi abbiamo avuto un aumento di capitale di 150 milioni di euro, del quale solamente 20 milioni di euro sono stati, a parte, sono stati praticamente compensati. Il resto, 130 milioni di euro, è stato sottoscritto, quindi, dalle banche e con la facoltà, con le tre ordini, che controllavano l'assanamento SBA, di poter riaccostare queste azioni con una maggiorazione del prezzo del 10%. È evidente che in questo modo sia attuata una operazione di finanziamento garantita dalla proprietà, dal controllo sulla società da parte di chi aveva eseguito questa operazione di finanziamento, evidenziando, quindi, come il finanziamento con la garanzia della proprietà possa essere attuato nell'ambito della normativa, societaria, attraverso anche operazioni di aumento di capitale. Ovviamente, nella prossima sessione, noi vedremo che una delle modalità per l'accentivare il finanziamento di imprese in crisi è l'articolo 182 quadri, quindi la concessione della preveduzione. Ovviamente, quando si tratta di fare un'operazione di finanziamento per importi così elevati, 130 milioni di euro, io dubito che poi nella pratica, assolutamente, che tutto possa essere possibile, si faccia un'operazione di così elevato ammontare economico e quindi, nel caso di risanamento, le accordi di ristrutturazione del caso di risanamento evidenziano come la sottostruzione di un aumento di capitale da parte del finanziatore possa consentire anche di conseguire il controllo della società che potrà essere accostata, una volta naturalmente superata dalla crisi, da parte dei soci originali che, ovviamente, in questi casi non possono che essere le holding di controllo sulla precedente società. Grazie, questa è una osservazione di straordinario interesse. Prima di passare la parola al Dottor Ronaldi, posso farti una domanda che credo che ho già risposto alle cose che tu hai detto, ma è per renderla a me stesso più chiara. Mi pare di capire che tu condividi l'ipote della tesi, secondo la quale la disciplina del nuovo 163, quantomeno nel caso di offerte concorrenti che prevedano un aumento di capitale del sacrificio del diritto di opzione, sia in qualche modo speciale e quindi prevalente sulla disciplina del codice in ordine alle condizioni che disciplinano la possibilità del sacrificio del diritto di opzione. Quindi non occorre, se siamo una SBA, occorrerà più sempre una delibera assegurare che delibere un aumento di capitale oppure si può ritenere del tutto superata questa esigenza. E se occorre, i soci dovranno valutare a loro volta l'esistenza di quell'interesse sociale o comunque di quell'interesse che esige il sacrificio del diritto di opzione, oppure essendo la proposta del terzo che è già formulata così, questa delibera non ci dovrà essere o non dovrà essere posto all'ordine del giorno la valutazione sull'interesse del sacrificio del diritto di opzione? Allora, diciamo che ovviamente della fretta che convoca la decretazione di urgenze in una materia complessa di opzione, come quella del diritto alimentare, già a presenza del limite, già a presenza del limite, la definizione di urgenze in una certa fretta, a maggior ragione vengono a crearsi dei problemi dove non solo ci si occupi della materia valimentare ma del coordinamento tra la materia societaria e quella alimentare. La sensazione è stata sinceramente legge di questa norma che al momento in cui sia scritta non ci si sia posti il problema di tutta la disciplina societaria che stava a monte, nei confronti della quale sarebbe stato auspicabile un maggior coordinamento. Attualmente ci sono questi problemi, perché senz'altro in fase attuativa dovrebbe essere ovviamente convocata l'assemblea per poter consentire ai soci di poter deliberare. In fatto ci sono anche delle criticità in relazione al fatto che questi dovrebbero andare a deliberare un aumento di capitale che con l'esclusione del diritto di opzione di fatto è fare per ben di meno la stessa partecipazione. Il problema è appunto si colloca anche a livello costituzionale, mi avviso, perché in realtà la partecipazione del socio è qualcosa di distinto anche dal patrimonio della società, perché è la società che risponde ai sensi del 2740 quindi il socio volontariamente dispone per l'assegnazione delle appropriazioni in favore dei creditori. però è un profilo, è un aspetto delicato e che non è stato assorto di fatto dal legislatore che ha scritto una norma che sembra quasi un principio di legge delegata a una normazione di dettaglio sull'esecuzione di una proposta del terzo e non altro problema appunto perché si va a fare il 182, ultimo coma della proposta concorrenziale e non invece nell'ipotesi con cui siano gli amministratori ad aver concepito questo aumento di capitale anche con la intuazione di soddisfazione. Se si potrebbe, non lo so, per chi mi può immaginare però una differenza di questo tipo ma allo stato attuale della norma. Se il dissenso, chiamava la cosissima difesta, tra gli amministratori che formano una proposta di concordato e il piano di concordato e implicante l'aumento di capitale con sacrificio del diritto di opzione e lo fare così incautamente, dunque una parentesi, da non essersi prima assicurato per il confezione dei sogni, perché forse si venirebbe un po' suicida se lo facessi mai, mettiamolo, forse è un caso di scuola, ma mettiamolo così a carta. Ovviamente, però ovviamente, ecco, dubito che questa sua scelta dell'amministratore intendo possa giuridicamente vincolare i sogni chiamati una assemblea a deliberare in conformità. Ciò comporterà però, se il concordato è stato omogliato sulla base di quel piano, da quel presupposto, un inaleggimento da parte del soggetto societario che include tutti i suoi ordini, naturalmente, e quindi, evidentemente, sarebbe una ragione di soluzione e concordato. Viceversa, se la proposta di aumento di unità nel senso del diritto di opzione è formulata dal terzo, e quindi già in partenza non si presuppone che ci debba essere stato, ci fosse essere stato un sia pure informale soldaggio per assegurarsi il consenso dei soci. Ciò non esclude probabilmente la necessità di una compozione dell'assegurazione dei soci per deliberare con l'unità di capitale. Ma la norma consente di superare il difetto di consenso perché sono nomi del commissario giudiziale per cui vengono asseguiti i poteri dei soci, i poteri di voto. E quindi, a quel punto, al voto si arriverà, magari con una seconda battuta, attraverso questa sorta di commissario all'acta che è nominato dal Tribunale. Mi pare che ci sia questa differenza, non so se condividi questa rialentura, che ci debba essere una delibera. Lo dice il fatto stesso che è prevista la nomina del commissario giudiziale al quale si rituisce il diritto di voto. Quindi vuol dire che ci deve essere un'assemblea per qualcosa. Si, diciamo. E non si consente di far sì che il voto sia in qualche modo un voto coadro, diciamo così. Sì. Per l'altro, dunque, l'articolo 185, al sesto comma, dice, parla di una cosa che mi ha colpito anche su questo punto. Dice, parla di revoca dell'ordano amministrativo se si tratta di società a nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata e attribuendo il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta. In inclusi, qualora tale proposta prevede un aumento di capitale, la convocazione della deliberazione. La cosa che è un'ulteriore, appunto, criticità che propisce questa norma è che sembra superiore all'uomo inerzia dell'organo amministrativo che non convochi l'assemblea e quindi procede alla sua revoca e non abbiano l'amministratore provviso. Il problema, anche, è laddove l'amministratore di esecuzione alla proposta concorrenziale del terzo, convochi l'assemblea ma o non si formino di quorum o di legge o i soci non votino. Certamente, prima battuta, io sono d'accordo che devono essere convocati i soci e quindi devono essere loro a disporre l'esternamento di capitale che non farà che escluda il loro interruzione. Anche se, secondo me, una scrittura un po' più approfondita della norma avrebbe eliminato tutti i problemi. in fronte a un'assemblea di Ottosa, la mistura è la poppa, secondo me. La assemblea non raggiunge il quorum o addirittura raggiunge ma rigenta la posta. Si potrebbe ancora trovare spazio in ulteriore segmento della norma del 187, che prevede l'attribuzione al commissario non solo del potere di convocare l'assemblea ma anche del potere di votare l'assemblea. Quindi provvedere a una ricollocazione dell'assemblea con l'attribuzione del diritto di voto al commissario per consentire il superamento dell'ostituzionalismo non solo in termini di non comunicazione ma anche di dichiarare la presenzione dei soci oppure questo sembrerebbe eccessivo. Allora, qui il testo POM parla appunto di Revocat, l'organo amministrativo e quindi di convocare il nomine dell'amministratore provvisorio che cos'è. L'unico appiglio normativo che ha avviso per poter superare il dissenso dei soci che siano stati regolarmente convocati dagli amministratori per la delibera di aumento capitale è al limite di 4, quello che prevede che nel caso del comissario iniziale credere che il debitore lo sta provvedendo al compimento degli atti necessari per esercizionare la suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento deve senza induzione di venire il criterino a tribunale perché sentito il debitore può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere il luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesto. Certamente si tratta di una questione che avrebbe richiesto una migliore focalizzazione perché prima ci andiamo a muovere appunto sulla partecipazione del socio quindi un bene che abbiamo detto essere fondamentale distinto dal patrimonio della società con il quale deve essere risposto all'adempimento delle obbligazioni di quest'ultima quindi l'unico appunto appiglio normativo secondo me è 185 e 4 coppa e quindi però insomma è delicato perché qui si va a impattare sui principi di natura costituzionale quindi forse... Scusa, mi viene spontanea poi un'altra domanda in qualche modo collegata cioè se parliamo di S.R.E. Nel caso della S.R.E. la disciplina del sacrificio del diritto di obiezione come sappiamo è diversa oggi da quella che forse anche in qualche aspetto non vedete comunque oggi in maniera decisamente diversa perché mentre la S.R.E. come sappiamo il diritto di obiezione può essere tivotebotta il diritto di obiezione è certificato dalla S.R.E. l'Assemblea che quando al interesse è risultato esigido a tutta l'intività, il sovrapprezzo, l'informazione, l'innovazione, l'innovazione, eccetera che forse qui sono superate, è una cosa speciale che viene riconoscato dall'altro nel caso della S.R.E. il carattere più personale della società fa sì che non è un'assemblea che di volta in volta decide se il diritto di obiezione ma che questo deve essere previsto statunariamente è lo statuto che deve consentire la possibilità di sacrificare il diritto di obiezione e se lo fa deve dare diritto di accesso come è contro partita al sovrappro che ne è di una S.R.E. il cui statuto non contempli questa possibilità e quindi la quale statutariamente non potrebbe questa S.R.E. contemplare il sacrificio del diritto di obiezione i soci e i amici dell'assemblea non potrebbero, se non violando lo statuto, deliberare la soppressione, la limitazione o l'esplosione del diritto di obiezione e se lo prevede ovvero lo statuto o lo statuto lo prevede ma con il diritto di accesso o per esempio qui allora il diritto di accesso se lo statuto lo prevede e se lo statuto lo prevede possiamo ritenere che la normativa introdotta nella legge alimentare ciò non di meno consenta nel caso della proposta del terzo in questa volta direi solo nel caso della proposta del terzo ciò non di meno consenta al terzo di fare una proposta così fatta ma anche se sarebbe per così dire una proposta anti-statutaria allora teoricamente e poi prima l'altra proposta che non sottolineiamo è la proposta delle missioni e le azioni speciali si può opporre il diritto di obiezione ma non si può modificare dall'esterno allo statuto per prevedere azioni speciali qui si può immaginare invece che si modifichi dall'esterno allo statuto non so se l'abbiamo dato chiaro direi che attualmente la risposta ce la dà l'articolo 163 quinto coma perché prevede nell'ultimo periodo la proposta la proposta può prevedere l'intervento di terzi se il debitore è la forma di società per azioni in cui ha responsabilità limitata può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto di obiezione nonostante qualsiasi cosa lo statuto prevede questo è una risposta si, c'è questa norma speciale che forse avrebbe dovuto essere evitato si può ragionare e rimanerebbe poi il diritto di accesso in questo caso su questo non ci dice niente la legge qualità in cui se ne è occupata e quindi non essendo escluso secondo me rimane il diritto di accesso certo poi insomma vorrei il valore di questo processo se non è terminato è tempo che arriva la parola al dottor Anale mi scuso di averlo contattato grazie presidente io innanzitutto voglio ringraziare per l'invito ma principalmente per poter essere stato il conditore perché e nella giornata di ieri e nella giornata di oggi colgo numerosissimi spunti di riflessione ma che poi si trattano di momenti operativi questo è forse il momento più importante degli interventi conventistici io non porterò stimoli ma cercherò di dal lato mio che poi è un lato meramente aziendalistico molto perdivo di rappresentare quali sono le difficoltà che abbiamo incontrato nella vicenda SEAT e mi sono trovato di fronte in altre operazioni più piccole caratterizzate da aumenti diversamente rispetto a quello SEAT che era il servizio della proposta concordataria invece al sostegno del piano quindi conflussi finanziari che erano importanti per il sostegno del piano Allora, un collocare correttamente SEAT è importante SEAT è una realtà che all'epoca era e ancora oggi è il mondo più all'epoca era una public company non aveva un sostegno di riferimento mancava aveva discontinuità dell'assetto manageriale nel senso che si era appena modificato il consiglio di amministrazione il consiglio di amministrazione nuovo ha deciso che era insostenibile la posizione debitoria e questo è veramente importante perché era obiettivamente indipendente del giudizio non doveva salvare nulla del passato e cercava di trovare una soluzione all'insostenibilità del debito e doveva un indebitamento mostruoso che poteva essere risolto non con un pagamento in denaro perché non ci sarebbero mai stati a servizio del debito di una montare tale da consentire una soddisfazione in quei termini in un orizzonte temporale adeguato compatibile con una proposta concordataria ma doveva trovare una soluzione con una conversione in strumenti diretti all'epoca vi era una società controllante che aveva appena eseguito un conferimento in una conferitaria controllata quindi con tutta la responsabilità del 2560 prestando garanzie ai creditori finanziari fideluzioni e ulteriori garanzie che facevano sì che tutto il debito che si era trasferito nella conferitaria fosse anche nella conferita e stiamo parlando di un miliardi almeno di posizioni debitori nei confronti dei fornitori da questo sistema non vi erano solo debiti correnti debito non sostenibile la soluzione più semplice era quella della conversione di poi vi era una controllante quotata valeva la pena mantenere la quotazione valeva la pena perché consentiva una way out al parterre di investitori finanziari che era veramente di finanziatori che era veramente ampissimo perché poi una parte del debito era radicato in bond che erano stati poi collocati e quindi vi erano fondi speculativi vi era di tutto nel titolare ed è evidente che di lì in avanti mancava un senso di riferimento che potesse quantomeno presidiare la prima fase del processo del momento di ristrutturazione che però la fase più dedicata e più importante che fare dei soci esistenti la prima domanda che ci sia posti che io mi pongo tutte le volte e che mi sembrava che avrei trovato una soluzione in una delle vostre del disegno di legge e poi però è stato spunto quel passaggio quindi arrivo a porre la domanda la domanda è l'ostaggio rileva o non rileva i fini della determinazione del patrimonio netto esistente all'uscita del sex e quindi al momento dell'omola quindi patrimonio esistente riferibile ai vecchi soci allora in una prima proposta concordataria e piano concordatario si era detto rileva e si era determinato il patrimonio netto residente i vecchi soci tenendo anche conto di questi elementi in qualche modo di questo effetto si era tenuto anche conto di una pronuncia della pronuncia che io chiamo Consolo Juventus che aveva mantenuto che aveva suggerito fortemente alla società di mantenere nel capitale sociale i vecchi soci che si restano in ignoranza anche se fosse una situazione 2447 non alzerà niente che realmente il capitale sociale poi di lì era scaturita una massima del Consiglio notarile di Milano e quello è un percorso che nel caso Seat aveva funzionato si è scese a 120.000 euro che era il minimo legale proprio per mantenere in qualche modo i soci in una seconda proposta perché? Perché il Tribunale si era posto la domanda sul 1740 l'aveva posto solo come domanda non aveva detto non vi sono delle carezze aveva chiesto al commissario dica al commissario se ritiene che il sacrificio che viene posto in capo ai creditori con il mantenimento ancora del capitale sociale dei vecchi soci sia o meno accettabile sotto questo profilo nel formulare la seconda domanda la seconda proposta e la seconda domanda ci si è in qualche modo dimenticati del fatto che per effetto degli stracci della conversione cioè dei meri stracci non è una conversione per verità si ripresentasse un patrimonio netto positivo e quindi si è andati su quella strada il problema era a quel punto incentivare il voto per far sì che i soggetti venissero a votare perché mantenevano una partecipazione così contenuta che sarebbe stato non possibile cioè non interessante e questo è stato ottenuto proprio attendo loro prevedendo loro una tazione di Warren che consentiva una sottoscrizione di un aumento di capitale comunque contenuto ad imprezzi che erano più o meno allineati con il valore che veniva ad assumere la società per effetto della straccia della conversione bene e con questo problema sul tavolo la prima domanda che ci si è posti è d'accordo ma noi non possiamo a questo punto attendere a deliberare l'aumento del capitale sociale e conseguentemente alla fusione perché la fusione era un presupposto dovevo portarmi a questo punto l'indebitamento sopra per poter fare la conversione e assegnare a questo punto le azioni della che aveva suggerito la fusione che la controllante Odi non aveva risorse proprie quindi non era in grado di adempiere una proposta concordataria che aveva un indebitamento rilevante perché quelli erano comunque che gravavano ovviamente in una realtà soprastante e questi flussi potevano pervenire solo dalla controllata evidentemente facendo salvo nel nostro associamento dei creditori andando ad esaminare con estrema attenzione mantenendo l'autonomia delle masse nelle valutazioni però potevano arrivare soli e nel corso della procedura le carezze finanziarie sopra sono state risolte poi comunque attivando un finanziamento upstream chiedendo autorizzazione per poter controllare in qualche modo rimanesse in vita fosse il grado quantomeno di adempiere le pubblicazioni che erano assolutamente necessari perché vengono alcuni oneri da soldare per poter assicurare una fluidità del processo di votazione informativa ai soci a dei modi che non possono essere assolutamente trasformati bene e come è stato risolto è stata risolta anticipando a questo punto la deliberazione le delibere sono state assunte eh con grande anticipo rispetto alla donanza dei creditori non ci siamo fatti mancare nulla perché ancorché fossimo ancora con la legge in situazione prima del decreto legge 1983 abbiamo avuto anche una proposta concorrente che prevedeva un intervento in capitale sociale che prevedeva ehm sotto il profilo finanziario un trattamento migliorativo per i creditori ma che il consiglio d'amministrazione con assoluta indipendenza e il commissario eh analogamente hanno valutato non altrettanto soldi sotto il profilo industriale ehm devo dire che hanno avuto ragione perché poi il proponente ha avuto delle vicende eh assai delicate sotto il profilo di sostenibilità finanziaria bene eh questo ha fatto sì che venisse assunta la deliberazione di fusione da parte di questa amministrazione che era una società interamente partecipata eh le deliberazioni dell'assemblea e tutto questo fosse poi eh subordinato all'omologo con una successione temporale dove prima vi era in quella sostanza l'effetto dello stralcio a seguire immediatamente la fusione e e solo successivamente l'aumento del capitale sociale al servizio del eh della proposta condordatale questo per dire il caso Seat però eh voglio invece soffermarmi su un'altra casa che c'è stata l'amministra una settimana fa quindi non faccio il nome della società però è una società molto piccola dove il tema era non solo quello del servizio eh alla proposta concordataria perché è stato risolto con uno strumento finanziario partecipativo ma anche quello del sostegno del piano e quindi occorre un aumento di capitali in denaro bene eh qui il tema dell'esclusione del periodo di traduzione si è posto in modo delicato perché situazione perfettamente grave alla precedente per effetto dello strancio si sarebbe terminati con un equity positivo insufficente eh cioè che avrebbe portato gli azionisti eh vecchi in una posizione comunque minoritaria rispetto a coloro che dovevano intervenire per eh assicurare continuità con un piccolo problema che colui che colore che volevano intervenire non volevano trovarsi il vecchio socio al tavolo è una situazione molto frequente nella realtà di piccole dimensioni è una situazione che in qualche modo è stata risolta prevedendo eh non l'esclusione perché eh ci siamo posti il tema dell'impatto della possibilità dell'esclusione in ipotesi di azzeramento del capitale sociale e l'abbiamo risolta con la rinunzia da parte dei vecchi soci peccato che per i vecchi soci vi fosse anche vi fossero anche soggetti terzi nel caso di una società partecipata alle casse depositi e prestiti eh e il tema è stato risolto eh attraverso una negoziazione del terzo interventore dove il terzo interventore per i creditori e i fornitori strategici eh hanno raggiunto un accordo per poter eh soddisfare in qualche modo eh le pretese dei eh soci estranei e dei creditori più amatizi estranei nella realtà soprastante ed assicurare a questo punto eh la rinunzia il voto da una parte e la rinunzia al eh eh l'esercizio del diritto di risoluzione dall'altro il problema è che qui eravamo ante decreto legge 83 eh e devo dire fortunatamente perché eh era un po' un altro momento delicato in questo caso specifico eh le risorse finanziarie occorrevano con eh immediatezza eh nel contempo eh qualche dubbio eh sulla eh capacità finanziaria dei sceggetti che intervenivano poteva sorgere eh almeno su una parte di questi era per tanto indispensabile che eh l'aumento di capitale fosse in qualche modo eh in una situazione diversa si era ricorsi ad un finanziamento quinquies eh eseguito dal soggetto che eh eh sarebbe intervenuto nel eh capitale sociale eh per poter ehm assicurare a questo punto il eh anzi che era intervenuto per poter assicurare le risorse finanziarie per la sottoscrizione nel caso di specie eh il momento ehm in un finanziamento quinto che in un momento in cui questi soggetti erano semplicemente produttori non erano ancora in alcun modo come molto di capitale sociale era eh un momento di delicatezza eh ed allora abbiamo preteso una sottoscrizione eh e era messa a disposizione delle relative risorse eh eh nel alla società eh la sottoscrizione di un aumento però evidentemente subordinato a ehm all'avvenuto omologa eh avrebbe creato però un problema enorme sul profilo delle proposte concorrenti perché le avrebbe in qualche modo impedite eh e pertanto quella non è una strada che è proponibile oggi con il 163 eh l'esigenza però di assicurare comunque eh una forza adeguata nell' effettiva sottoscrizione dell'aumento di un'esigenza concreta perché eh se anche la delibera fosse assunta eh la sottoscrizione fosse in qualche modo eh la sottoscrizione si tesse eh segnita ma poi non mi fosse l'interazione dell'aumento il problema sorgerebbe vero che ci sono tutti gli strumenti previsti in materia eh 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 statistica sotto questo profilo per la società sotto questo profilo però il problema diventa proprio un problema che si ribalta evidentemente sulla capacità di di dar corso all'esigenza della proposta eh volevo ancora spendere due parole sull'impiego dello strumento finanziario partecipativo che è uno strumento che è estremamente efficace eh ma che richiede un presupposto fondamentale eh lo strumento finanziario partecipativo perché effettivamente possa essere utilizzato e quindi eh possa essere accettato dai venditori presuppone sempre che ci sia un governo eh dell'azienda e quindi dell'impresa adeguato eh se il governo precedente che non sia dimostrato adeguato occorre che insieme allo strumento finanziario partecipativo venga anche eh posto in essere un processo di discontinuità nel rispetto al proprietario ed è la soluzione che è stata adottata eh nel caso di specie perché è stato utilizzato lo strumento finanziario partecipativo eh chiaro il senso di liberare un quarto dell'innevitamento eh ecco c'erano in questo punto risorse finanziarie imputate tra tutti gli altri creditori ma questo ha richiesto anche il cambiamento della situazione e la riuscita del vecchio socio lo strumento finanziario partecipativo ha un vantaggio incredibile perché consente di eh prevedere da una parte eh un privilegio nella eh nei riparti ma anche una limitazione dei riparti potrebbe consentire di limitare le posizioni di riparto all'ammontare un ordinario dello strumento finanziario e anche una convertibilità in azione a verificarsi in una serie di eventi limitata al residuo non ancora in qualche modo risposto mantenevano molto simile ad uno strumento di debito ma eh con un contenuto di strumento di equity bisogna fare molta attenzione ad eventuali obblighi di riscatto perché eh con i principi notabili internazionali questo eh va sì che venga meno eh in parte il valore del debito cioè eh la natura di equity mantendo una posizione ancora debitoria ma fuori di questa situazione mi consente di utilizzarlo al ripianamento delle perdite senza meno male in alcun modo la capacità di eh rimborso tra virgolette o comunque di riparto a favore del titolare dello strumento quindi uno strumento molto gradito al sistema bancario sotto questo profilo eh che consente anche eh eh dei eh momenti di informativa che consente anche una eh condivisione in eh alcuni momenti del governo societario eh eh che però presuppone un elemento di fondo occorre che l'imprenditore dimostri di aver cambiato pelle ed essere da quel momento in avanti affinato eh sono considerazioni ripeto operative eh abbiamo avuto anche il tema del recesso il tema del recesso il tema del recesso il tema del recesso l'avevamo per effetto della fusione per il cambiamento dell'oggetto dell'ordine eh il tema non è stato particolarmente preoccupante perché in quel momento il valore delle azioni eh di borsa ma anche quello implicito era eh ridottissimo contenutissimo quindi l'esborso che sarebbe derivato sarebbe stato estremamente contenuto eh perché non portavano un conto in fine del recesso evidentemente l'effetto dello strage eh quindi sotto questo profilo non è stato momento di preoccupazione però è fondamentale che non c'è tenuto il conto che non c'è tenuto il conto perché nel momento non è stato tenuto il conto a questo punto allo stesso tempo io mi fermerei qui grazie grazie per questa eh applausi e un applauso molto meritato perché ci questi 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 bagni nella concretezza sono veramente fondamentali per noi eh mi veniva eh da chiedermi un'altra cosa a proposito della questo particolare meccanismo che adesso è previsto di nomina di direvoca dell'amministratore dell'amministratore in caso appunto di eh non eh di atteggiamento allo sufficientemente collaborativo diciamo con la proposta del terzo e di nomina un commissario un commissario straordinario questo sia già dato un'esperienza o ancora non c'è mai stata un'esperienza concreta io non ho avuto un'esperienza concreta nel senso devo dire che è molto suggestiva come soluzione cioè è di grande efficacia a questo punto eh è sempre però un momento delicatissimo della sottoscrizione e del versamento del capitale eh che che è l'elemento che posso dire mi preoccupa in assoluto di più perché con i soci in qualche modo una soluzione transattiva la si riesce a trovare eh io continuo a ritenere che le proposte concorrenti per essere efficaci salvo ipotesi molto marginali che potranno verificarsi non devono essere delle sorte di oposti perché eh non stiamo parlando di soggetti che siano che sono in situazioni di normalità operativa ma i soggetti in situazioni di grande delicatezza e eh qualsiasi momento ed era la proposta concorrente eh se anche questa eh qualsiasi momento di criticità ulteriore nella condizione del processo eh della condizione azitale nella fase immediatamente successiva all'omologa è un momento di grandissima preoccupazione e per questo motivo è bene che si siedono al tavolo e interroguiscono i proponenti in modo fattivo con eh il debitore stesso o con eh l'organo amministrativo del debitore mi rendo conto che laddove mi siano eh da una parte l'aspettativa di eh ottenere un vantaggio a spese dei dei creditori per eh assicurarsi un bumper un cuscinetto di liquidità ulteriore per la continuità riconoscendo il minimo indispensabile dei creditori appena sopra il mio sottoscimento dei creditori e dall'altra parte invece ci sia la disponibilità riconoscere ben di più magari apportando altri mezzi freschi la situazione diventa a quel punto di conflitto eh e e possa essere risolta forse solo attraverso la reuva dell'amministratore ecco che la domanda che ci sono dove porre è insomma del tutto in astratto se non sia in qualche modo addirittura sovradimensionale questo strumento la reuva dell'amministratore che comporta la reuva a tutti gli effetti dell'amministratore non solo in funzione dell'adempimento di quel particolare di quella particolare di quei particolari atti e spero che siamo in una fase nella quale gli altri sono decisivi per la vita dell'impresa ma la domanda ci si potrebbe porre e mi porrei anche un'altra domanda ma che a questo punto è una domanda per il momento astratta visto che di casistiche non ce ne sono sulla sulla procedura che dovrebbe essere seguita perché qui la cosa è veramente molto laconica e a tutti viene in mente per associazioni di tecniche quanto meno la disciplina della tutela della tutela della tutela la tutela non so che cosa se ne pensi probabilmente questo significa ipotizzare una procedura con le sue evole la notifica la sentire gli amministratori non so se potrebbe anche consentire l'ipotesi della società in modo da prevenire e impedire la revoca e comunque il meccanismo di reclamo con l'appello che sembrerebbe con necessariamente collegato a quella quella procedura se ci dovesse fare riferimento oppure questo chiedo a chiederlo alla collega anche se sono domande alle quali adesso rispondiamo una sensazione di pronta ma forse anche interessante riflettere insieme all'altra voce oppure calarsi in questa situazione in una procedura concorsuale suggerirebbe piuttosto suggerirebbe piuttosto di abbandonare le regole procedurali e di immaginare che tutto questo si debba giocare all'interno dei meccanismi processuali perché la revoca dell'amministratore sembrerebbe di competenza del tribunale fondamentale è difficile immaginare che lo sia da per chiedere al per il resto forse si dovrebbe immaginare applicare quella disciplina processuale oppure a prima vista delle difficoltà dell'applicare allora la prima riflessione una considerazione che mi viene da fare è che la mancanza di disciplina procedurale ad hoc farà sì che sul piano applicativo potrebbero essere più opzioni interpretative potendosi astrettamente configurare un procedimento carato delle forme processuali destinate a svolgersi davanti al tribunale fondamentale o si possa ricorrere invece alla applicazione della disciplina societaria e questo non è un bene non perché ovviamente ci saranno più opzioni interpretative così e a prima impronta mi verrebbe da dire che il riferimento in mancanza di una procedimentalizzazione disegnata dall'articolo 185 della legge fallimentare non possa anche avere come riferimento il modello normativo societario le regole devono essere appunto ricercate lì però evidenzia appunto come ancora siamo molti passi da fare questo coordinamento tra disciplina societaria e disciplina concorsuale proprio perché appunto c'è la tecnica di normazione dell'ultimo coma dell'articolo 185 sembra proprio l'inunciazione di un principio più che di una normazione specifica che richiede probabilmente come anche nel progetto di riforma una normazione di dettaglio da parte dei decreti legislativi delegati sulla base dei principi delegati appunto è quello dell'oggetto elaborato dalla commissione ministeriale della Presidente Rodolf attualmente all'esame del Parlamento cioè qui ci vuole un'annunciazione di un principio attraverso una legge terrica che vadano a dire che cosa si deve fare materialmente eccetera per esempio sarebbe legittimato a fare una domanda al tribunale della regola la nomina del commissario straordinario il commissario giudiziale o anche il terzo proponente o il terzo proponente e qui non mi pare che la norma si il commissario mi avviso mantiene sempre questi poteri di vigilanza quindi è legittimato a poter chiedere a rivolgersi al tribunale ma in realtà secondo me anche il terzo ma teoricamente insomma forse anche i creditori destinati ad essere soddisfatti con quella proposta concorrenziale del terzo interno anche questo è un problema aperto sullo sfondo del quadro c'è il problema noto e ovviamente già dibattuto sul quale fosse adesso non mi soffermerei perché altrimenti ci porterebbe lontano di quali saranno le conseguenze della mancata dell'ambimento della proposta del terzo sulla posizione del temitore quindi quali siano almeno le parti in gioco in questa strada partita a tre non so della sua esperienza tornando a lei l'applicazione di diciamo della struttura progettimentale della struttura del 1909 a questa attuale situazione di settore ci vede ci vede dei problemi allora io torno proprio al caso se il percorso dovesse essere partito del 1909 non avrebbe risolto nulla perché noi avevamo questo problema delicatissimo che dobbiamo avere a che fare anche con il tuo quindi il quadro innovativo è sicuramente molto più complesso gli interessi sono assolutamente ben più ampi però se avessimo cioè il tema critico era raggiungere il cuore in assenza e non perché fosse un diniego all'operazione ma proprio perché non gli era interesse ormai la realtà aveva un valore residuo molto contenuto è assolutamente difforme rispetto al valore effettivo molto più alto perché erano figurine che si scambiavano in un trattato non avevano nemmeno la sensibilità non era nemmeno più posseduta da fondi e c'è comunque del trattato che ci siamo fatti bene l'interesse viene assolutamente di superare lo scoglio assembleare però la revoca presuppone a questo punto una giusta causa nel momento in cui il o irregolarità ma nel momento in cui non vi sia nessuna violazione da parte degli amministratori e questi si stanno comportando hanno convocato l'assemblea hanno fatto tutto quello che devono fare e non riescono a ridurre i quorum assembleari che cosa può essere imputato loro sotto un profilo di irregolarità assolutamente nulla quindi la strada del 20409 non sarebbe stata in per sé efficace sotto questo profilo no no e sotto questo aspetto credo che per riuscire a avere una cesura tra l'assetto proprietario e l'interesse dei creditori occorre passare oltre il ruolo dell'amministratore e quanto può compiere l'amministratore ma bisognerebbe prefigurare a questo punto una valenza assolutamente della disposizione valimentare assolutamente pregnante rispetto alle disposizioni civilistiche con un'ulteriore considerazione che nel momento in cui mi trovo però questo amministratore che è provvisorio che mi va a che si siede al tavolo di comando di un momento delicatissimo anche su un profilo di produzione dell'impresa se non assicuro una continuità sul termine manageriale della seconda linea io mi ritrovo se non ce l'ho mi ritrovo in un momento diverso riesco a raggiungere le delibere necessarie ma non riesco a comprare poi la nave un certo questione previsto nella fase esecutiva naturalmente forse il problema si era posto in una fase in una fase anteriore c'è qualche differenza da questo punto di vista ma una delibera di aumento del capitale come servizio del diritto specialmente se per esempio dell'ipotesi comunque dal 180 85 insomma nel caso sul quale stiamo tornando della nomina promissaria quindi di una delibera che in qualche modo avvenga con poteri diciamo extra assembrari o meno riconoscibili ai soci sarebbe comunque impugnabile per eventuali inizi di recettività e da chi anche questa la norma non ce lo dice perché attattamente secondo me sono prospettabili due soluzioni anche qui perché l'amministratore provvisorio è dominato dal tribunale parimentale quindi potrebbe porsi una competenza dal tribunale parimentale in ordine agli altri compiti dall'amministratore provvisorio però si potrebbe astrettamente portare anche il problema dell'eventuale competenza del tribunale delle imprese tentando anche di società di capitale in ordine a questo atto compiuto dall'amministratore provvisorio senz'altro è interessante notare come anche il coordinamento spiegato che in modo forse un po' maldestro ha iniziato il legislatore nel 2015 questo coordinamento tra diritto societario e diritto concursuale implica dei risvolti importanti non solo a livello sostanziale ma anche a livello processuale perché quando c'è da risolvere una crisi d'impresa bisogna fare in fretta e in questa esigenza di rapidità ma allo stesso tempo anche di economia dei mezzi giudiziali è opportuno che le competenze vengano accentrate davanti ad un unico tribunale perché se a fronte di questioni di carattere societale che possano avvenire il rilievo tanto durante la fase della procedura di consultato ma anche nella fase esecutiva noi abbiamo astrettamente due tribunali che possono intervenire abbiamo prima di tutto un'incertezza applicativa perché in presenza di una vacuna normativa ci potranno essere più interpretazioni ma allo stesso tempo abbiamo proprio una diseconomia perché due tribunali estrettamente possono convergere e pronunciarsi sui questioni afferenti a una medesima vicenda di soluzione della crisi tanto è vero che il progetto di riforma appunto il disegno di legge 1671 che ha ripreso i lavori della commissione perseguita da lei presidente ovviamente ha una significabile concentrazione in queste tutele tanto nei confronti dei territori che anche nei confronti dei soci davanti del tribunale parlamentare andando a creare quindi anche una parziale trasmigrazione di competenze dal tribunale delle imprese al tribunale parlamentare nell'ipotesi in cui determinate vicende riguardino una società in crisi che ha fatto domande e è stata messa ad una procedura concorsoale. quindi qui c'è anche un principio importante di economicità e di rapidità che deve trovare una risposta anche in sede di riforma perché altrimenti non sappiamo che da suo punto di vista lei come veramente questa opzione tra il percorrere ai tribunali delle imprese o ai tribunali competenti in base alla normativa societaria quando si fa atti di impugnare per esempio la delibera di potenza di capitale invece del diritto di opzione collocata il interno che si 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 comune, anticipazione degli investimenti, comunque degli esborsi rispetto ai benefici di sanità. Se sono il proceduralsimo accordo, investimenti non posso farli, perché se li faccio, li faccio con un grado di certezza, sottraendo risorse importanti ai creditori, anche perché sono gli investimenti che più contano, sono quelli che mi interessa, e sono portato a differire. È vero che potrei chiedere l'autorizzazione per il compimento dei detti esordinari, ma però se questi atti comportano la situazione della riparta, le risorse disponibili per i creditori, ecco che diventa un momento di grande, in ipotesi discutibili, un momento di grande delicatezza. Rimpiare anche in un mese, un anno, queste iniziative può ricordare che il paziente che era in uno stato precomatoso, bacino in uno stato comatoso, e i bicivoli nel prossimo stato cominciato, quindi sarebbe estremamente delicato. Quindi tra le due è preferibile se sei più spedito al percorso, evidentemente non dimentico, non dimentico. Lei se non capito male sta ricordizzando qualche situazione che fa in questo tipo di operazioni che dovrebbero scegliere prima del volo. Allora, no, sto pensando a farlo. No, no, certo, certo, nella fase emotiva, nella fase emotiva la situazione non è diversa perché è vero che potrei fare ricorso ai investimenti, potrei ricorrere gli investimenti con di maggiore libertà, però non avendo avuto l'aumento del periodo sociale, a questo punto, sono in una situazione veramente di incertezza, c'è il rischio di fare, di assumere ulteriori ordini senza sapere se poi l'esito è… Presidente, come i tempi quali, perché abbiamo un'altra sezione di lavori, scusami, quali… credo che sono più comodo, davvero possiamo andare a pensare, non so, anche ora non ci riusciamo a dire, non pensare sono le discusenze della propria inserita, non sono compatti, non abbiamo capito che l'aveste fatta io, scusate sono fuori fase, ma direi che diciamo Diciamo due parole sul procedimento di infusione e decisione, su questo può subito intervenire la collega Brogge e poi ha fatto un po' di capito. No, 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 è stato meglio la comunità. Dunque, il micrometro, un po' minuti, così almeno illustro brevemente le questioni che avvengono, il rilevo in materia di infusione e decisione. Nella prima ipotesi, il primo caso, che voglio far presente, è questo conflitto tra soci e apprenditori che noi ora abbiamo analizzato in materia di operazioni di aumento di capitali che si può riproporre anche nell'ambito della fusione e dell'accessione. Come il nostro sono operazioni societarie straordinarie che sono suddivise in tre fasi. La prima è la redazione di un progetto di diffusione e decisione da parte degli amministratori dell'esercizio di una competenza indelegabile e importantissima esplicazione dei massi di potere gestionale. Dopodiché c'è l'approvazione della operazione straordinaria di operazione da parte dell'assemblea Sede straordinaria e infine c'è la stimolazione dell'autopubblico di fusione a cui prendono parte gli amministratori sul mandato ricevuto dall'assemblea che ha deliberato positivamente l'operazione societaria. Il problema ovviamente si pone anche in questo caso in relazione al fatto che per effetto delle funzioni o delle recessioni ci può essere una possibile perdita del controllo sulla società detenuto dai soci e delle società partecipanti alla fusione. Attualmente questo conflitto non trova soluzione per l'opera del legislatore occorre richiamare tuttavia, sempre nell'ottica e nella prospettiva del rilanciamento di interessi di cui ho accennato all'inizio due norme fondamentali, l'articolo 42 e l'articolo 41, l'articolo 42 ovviamente il diritto appunto del socio sulla partecipazione trova diciamo la maggior tutela probabilmente nell'ambito di operazioni, di fusione e di scissione in relazione alla presenza del rapporto di cambio e dalla sua sindacabilità giurisdizionale, il rapporto di cambio che deve, a qualche risentia di una componente discrezionale da parte dell'organo amministrativo, essere ovviamente giustificato dagli amministratori sulla base dei parametri di carattere patrimoniale, di carattere economico, quindi partendo dal valore dei patrimoni netti. Dal punto di vista dell'articolo 41 ovviamente le operazioni societarie straordinarie e organizzative sono un'esplicazione della libertà organizzativa dell'imprenditore, la libertà organizzativa che nel momento della crisi richiede un bilanciamento con l'interesse dei creditori. Attualmente non è previsto alcuna modalità di superamento dell'eventuale dissenso dei soci che possano essere inerci o contrari per la sensazione di organizzativa. Il progetto di riforma numero 3671, attualmente l'esame del Parlamento, prevede la possibilità sempre attraverso la nomina dell'amministratore che possa convocare l'assemblea e deliberare le relazioni societarie straordinarie nell'ambito ovviamente di un principio di legge delega che poi richiede una formazione attuativa da parte dei decreti licitativi delegati, prevede non solo il possibile superamento del dissenso del socio ma anche l'esclusione del diritto di recesso e quindi andando in questo senso a superare il problema che il Presidente Roldoff aveva precedentemente evidenziato. Però quel progetto di riforma attualmente dell'esame del Parlamento mi consente di fare l'ultimo riferimento in relazione sempre a quell'ipotesi di conflittualità tra mezzi di tutela dei creditori, quindi il conflitto di norme che viene apporto dall'articolo 2503 in materia di opposizione alla fusione rimedio consentito a ciascun creditore a meno che non siano previste le risorse per il pagamento o comunque l'artestatore che ha creato la relazione esattiva l'idea 501 sezio e semmai la possibilità del rapporto di cambio non attesti che la fusione non avveta appunto al danno al proprio giudizio della relazione dei creditori, questo strumento di tutela viene apporsi in una conflittualità con l'opposizione all'omologazione di quell'articolo 180, quarto comma della legge parlamentare e quindi all'opposizione di convenienza. Ovviamente il 2503 si colloca nella prospettiva del 2740 e quindi un mezzo di tutela più riconosciuto a ciascun creditore, l'articolo 180 quarto comma invece l'esplicazione del principio maggioritario che impronta la soluzione riduzionale della crisi attuata mediante il comportato preventivo che costituisce probabilmente una limitazione alla esplicazione di questo principio maggioritario in presenza di opzioni alternative possibili per cui i due strumenti non possono essere assorbiti diciamo assorbiti l'uno nell'altro e quindi non si può ritenere che il 2503 possa essere assorbito nell'ambito dell'opposizione all'omologazione, però noi abbiamo attualmente così degli unicondito due strumenti di tutela azionati davanti a due tribunali diversi, l'opposizione dell'articolo 2503 davanti al tribunale delle imprese, l'opposizione ovviamente all'omologazione davanti al tribunale parlamentare da qui anche l'opportunità che questo conflitto tra questi due strumenti importanti di tutela nei confronti dei creditori possa essere risolto attreguendo la cognizione di queste questioni, quindi la tutela dell'articolo 1740, il principio di responsabilità patrimoniale del 1740 e l'alternativa di convenienza oggetto dell'opposizione con l'articolo 180 portocomma davanti al gruppo giudice che dalla prospettiva di riforma del disegno di legge attualmente all'esame della Camera riprende in quanto elaborata nei lavori del Comissio dell'Orto fu pure la conseguente attrazione nell'ambito del controllo di giocittività da parte del tribunale parlamentare anche dell'opposizione all'articolo 2503. Grazie anche per la sintesi. Do senz'altro la parola al dottor Ranallo per il tempo di breve per le osservazioni su questo tema dove effettivamente gli strumenti di tutela in concorso sono ancora più complessi da coordinare rispetto a quello dell'aumento di capitale di una nuova valutativa perché se lì gli strumenti di tutela a grosso modo possono essere alternativamente quelli di domicursuali e quelli dell'immunicazione della delibera assembleare qui abbiamo due strumenti di tutela previsti dal podice civile a tutela di interessi diversi quella dei soci che possono impugnare a peribere di diffusione o di scissione per qualsiasi inizio che in esse ravvisino le sensi anche qua l'articolo 277 seguenti ma anche gli strumenti di tutela per la posizione dei creditori dell'articolo 253 che volevano prima la dottoressa Broggi e quindi sono per così dietro i punti, gli strumenti da coordinare tra loro e a maggior ragione forse mi sembra auspicabile quantomeno vedere con dentro una unificazione dei luoghi in cui queste tutte le si realizzano. Se ci riusciamo ad arrivare con qualche sforzo interpretativo anche di un recondito personalmente, credo che faremo una cosa un'utile però è da verificare se sia possibile o no. Io oggi ritorno a parlare altro. Assolutamente, io tra l'altro uno strumento del quale si è fatto poco uso però qualche momento di un utile impiego potrebbe avere uno strumento delle scissioni con un problema delicatissimo che è costituito dalla responsabilità poi solidale dei limiti del patrimonio ma è lo strumento che mi consente laddove vi sia una possibilità di reperire esternamente ai terzi interventori le risorse finanziarie a condizione che la parte relativa alla backcom che non venga isolata ma nel contempo mi trovi nella impossibilità di dar corso a un trasferimento d'azienda perché ho dei processi autorizzativi o concessori che non mi obbediscono alla luce di quello che abbiamo sentito ieri le notizioni su condizioni a parti vengono certi questi rischi quindi la scissione potrebbe essere continuamente però mi ha questa responsabilità solidale che se è indeterminato nella volontaria che non sono in grado di determinare qualità nel momento tipo zero quant'è la reale effettività senza che se questo possesse poi messo in discussione nel momento successivo del patrimonio lento che rimane alla scessa diventa un momento di grandi certezze grazie 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 il tempo è in tiranno io suggerirei di andare avanti senza soluzioni di continuità proprio chi non riesce a non prendere il caffè vuol dire che si allontana silenziosamente ma dobbiamo proseguire direttamente grazie 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 grazie